L'imprenditore Vincenzo Graziano ha 71 anni ed è considerato organico alla famiglia mafiosa dell'Acqua Santa. Ha alle spalle varie condanne, una a dieci anni di reclusione, altre a otto, cinque e tre anni per partecipazione ad associazione mafiosa, riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti, peculato e intestazione fittizia di beni. Il provvedimento a suo carico dichiara l'irrevocabilità della confisca e così il suo patrimonio riconducibile a Cosa Nostra diventa definitivamente dello Stato. La confisca di beni per un valore di 10 milioni di euro riguarda l'intero capitale sociale e il complesso di beni aziendali di tre società operanti nel settore delle costruzioni edilizie a Palermo e di due società con sede a Tavagnacco in provincia di Udine e ancora magazzini, garage, abitazioni, terreni, autorimesse, motociclette, imbarcazioni e 30 rapporti bancari.